Prezzi dell'uva da Barzellette aiuti dal governo da Elemosi nell'allarme rosso lanciato dalla CIA, agricoltori italiani Puglia, per il settore vitivinicolo. I problemi sono già evidenti nelle zone come quelle del primitivo di Manduria dove è già iniziata la vendemmia. La peronospora ha causato la perdita del 50% della produzione ma i vitivinicoltori vengono mortificati da commercianti che offrono un terzo della quotazione dello scorso anno. Impossibile andare avanti così, proprio per questo la CIA ha chiamato a raccolta gli operatori del settore nelle vigne dell'azienda di Paolo Marangi Alizzano per un primo incontro. La protesta è destinata ad elevarsi. Il governo ha stanziato un milione di euro per la peronospora a fronte dei 3 milioni di euro per il granchio blu. Una barzelletta, con quel milione di euro non si riesce a risarcire nemmeno forse l'1% dei danni che sono stati arrecati in Puglia. Tutto questo nel silenzio più assoluto di tutti i parlamentari pugliesi di qualsiasi schieramento. I prezzi insostenibili non si riesce neanche a coprire i costi di produzione però noi ci domandiamo il perché di questo calo così repentino. L'agricoltore ha l'ansia di vendere comunque il prodotto sulla pianta che è deperibile, quindi a tutti i costi, a qualsiasi prezzo è disposto comunque a collocare il prodotto perché è arrivato comunque a maturazione. Insostenibile ed è abbastanza drastica perché quest'anno i prezzi che ci propongono a Quintale sono veramente ridicoli rispetto agli elevati costi di produzione che ogni agricoltore ha dovuto sostenere. Quest'anno in particolare perché i trattamenti anticrittocamici sono stati effettuati ogni due o tre giorni per poter salvare il nostro prodotto.